in questo momento rompe siamo a 58 anzi scusate a 56 attenzione perché in caso di 58 può andare a eguagliare il record del mondo eh ed è così il sorriso bellissimo di Diana Bacosi che è campionessa del mondo 2019 di tiro a volo fantastica Italia l'esultanza anche di Andrea Manelli medaglia d'argento per Vei e Meng ma la soddisfazione la gioia la felicità è tutta di Diana Bacosi e della squadra azzurra è anche nostra caro Michele beh diciamo la fine più bella per un mondiale organizzato in casa